Molti utenti ignorano come i vari componenti del computer influenzino il modo di lavorare. Una scelta attenta di questi elementi può invece aiutare a orientarsi verso un prodotto più rispondente alle proprie esigenze. Il disco rigido permette l'archiviazione dei dati. Ne esistono due tipi. I dischi rigidi tradizionali e quelli a stato solido, più moderni e più rapidi. Quando la velocità di avvio e di archiviazione diventano le necessità più importanti, allora i drive a stato solido danno il meglio. Sono più piccoli, veloci e silenziosi perché non hanno parti mobili. L'unità di elaborazione centrale o CPU trasforma le istruzioni in operazioni. Processori più rapidi garantiscono elevate prestazioni e permettono di semplificare il lavoro degli utenti, rendendolo più fluido e veloce. Le CPU multicore sono in grado di elaborare simultaneamente diversi comandi e sono quindi l'ideale per applicazioni intensive. L'unità di elaborazione grafica, anche nota come processore grafico o GPU, permette di trasformare i dati in immagini. I processori grafici standard sono l'ideale per la riproduzione di video, mentre quelli high-end sono adatti ai videogiochi in 3D, alla produzione di video e ai software CAD per il disegno al computer. Ci sono molti monitor sul mercato, gli acquirenti badano alle dimensioni, ma una risoluzione elevata garantisce immagini più nitide, quindi uno schermo piccolo con risoluzione elevata avrà immagini più nitide di uno schermo grande a bassa risoluzione. Le periferiche come i telefoni, i lettori MP3 e gli schermi esterni utilizzano le porte per trasferire dati. Il collegamento più diffuso è l'USB. Oggi la USB 3.0 è la tecnologia più avanzata. Trasmette i dati 10 volte più velocemente della USB 2.0 e consente ai dati di fluire in due direzioni contemporaneamente. Le interfacce Thunderbolt sono simili, trasferiscono i dati e caricano i dispositivi più in fretta di altre soluzioni. Sono l'ideale per i clienti più esigenti. Aggiornarsi sulle tecnologie e i loro vantaggi vi può aiutare nella scelta della soluzione giusta. Microsoft metti a disposizione numerose risorse per consentirti di scegliere la soluzione più adatta ai tuoi clienti.